pace bene cari fratelli e sorelle bentrovati domenica della divina misericordia occasione bellissima per riscoprire qualcosa della misericordia di dio che realmente guarisce usiamo proprio la chiave della misericordia per leggere il vangelo di questa domenica che ci offre due manifestazioni del signore risorto siamo anzitutto nella domenica di pasqua i discepoli hanno ricevuto l'annuncio da parte di maria di magdala ma ancora non l'hanno visto e sono lì rinchiusi nel cenacolo per paura dei giudei hanno paura di soffrire di morire avvertono un clima ostile contro di loro e se ne stanno lì rintanati nel luogo sicuro rinchiusi nella loro zona comfort quante volte miei cari anche noi siamo bloccati a causa delle nostre paure rinchiusi nelle nostre presunte sicurezze tutti intenti ad autoconservarci ad esempio per paura di sbagliare non scegliamo per paura di soffrire evitiamo di metterci in gioco per paura di restare soli rimaniamo chiusi in relazioni magari tossiche o asfissianti per paura di perdere consensi rinneghiamo la verità a questa paura potremmo pensare si aggiunga anche altro teniamo conto che gesù era morto da tre giorni e i discepoli l'avevano visto soffrire morire in croce dopo averlo abbandonato quasi tutti cioè avevano davanti agli occhi il loro fallimento alla paura si aggiunge dunque la percezione della propria inadeguatezza del proprio limite unitamente all'esperienza amarissima del peccato miei cari solitamente nella vita viene per tutti il momento in cui fare i conti con i propri fallimenti per tutti che a volte sbagliamo consapevolmente altre no ed è allora che scopriamo la nostra impotenza di fronte al male sì umanamente parlando possiamo cercare di rielaborare l'accaduto attraversando in modo sano il dolore provare ad accoglierci far diventare tutto ciò esperienza cercando se possibile di rimediare o dandoci da fare per migliorare ma da soli non possiamo darci quel perdono che libera profondamente il nostro cuore da soli non possiamo guarire la nostra anima da soli non possiamo darci una vita nuova soltanto dio può perdonarci e dare vita eterna alla nostra vita spesso malata e ferita infatti tornando al vangelo i discepoli non escono dalla loro chiusura dal loro incastro esistenziale per i propri sforzi ma perché gesù risorto va incontro loro e disse pace a voi e mostro loro le mani e il costato e i discepoli gioirono al vedere il signore e il contatto col signore risorto che permette questa trasformazione dalla paura alla gioia e l'esperienza di lui e soprattutto della sua misericordia che infonde pace ai loro cuori ecco perché gesù disse a santa faustina covalsca l'umanità non troverà pace se non si rivolgerà la mia misericordia se solo riuscissimo ad entrare un po di più nel mistero del suo amore per noi gesù risorto va incontro loro e non li rimprovera non rinfaccia niente si mostra vincitore sulla morte sul peccato mostra un amore più grande delle loro chiusure e gesù fa così con noi non ha paura delle nostre paure non si stupisce delle nostre cadute ma sempre di nuovo ci viene incontro per rialzarci per risollevarci e darci una nuova possibilità non temiamo allora di lasciarci amare nei nostri fallimenti di lasciarci perdonare dei nostri peccati è da qui che sgorga la pace e sentirci voluti bene e saperci amati e sperimentare il perdono che libera la nostra vita e che ci rende capaci a nostra volta di aprirci agli altri e di perdonarli e infatti subito dopo gesù affida ai discepoli un mandato enorme meraviglioso sublime proseguire la sua opera riconciliare gli uomini con dio come il ha mandato me così io mando voi e soffiò su di loro e disse ricevete lo spirito santo colore quali perdonerete i peccati saranno perdonati colore quali non li perdonerete non saranno perdonati queste parole non significano che la chiesa è il monopolio del perdono ma fanno capire l'urgenza e l'importanza di questo ministero se voi perdonerete gli uomini saranno perdonati altrimenti resteranno senza il perdono senza questa esperienza di misericordia che realmente guarisce qui in primo luogo miei cari abbiamo il riferimento alla dimensione sacramentale specie nel battesimo e nella confessione quest'ultimo sacramento tutto da riscoprire specialmente in questo giorno di grazia ricordiamolo nella confessione veniamo a incontrare gesù che mediante il suo ministro il sacerdote fa fluire nella nostra anima il suo perdono e ci dona la sua pace confessando i nostri peccati confessiamo al contempo la nostra fiducia nella misericordia di dio che sempre ci perdona sempre ci rialza sempre ci dà una nuova possibilità e proprio qui avviene questo misterioso scambio noi consegniamo al signore la nostra povertà lui in cambio ci dona il suo perdono ci guarisce con un abbraccio ma non solo allargando la prospettiva il mandato di gesù ricorda il compito che tutti abbiamo di diffondere il perdono il suo perdono perché se in questo nostro povero mondo dove regnano guerra e divisione non diffondiamo noi il perdono chi lo porterà chi porterà la rivoluzione della tenerezza chi diffonderà il suo amore se non noi che ne siamo fruitori e ricettori fa bene al cuore ricordare brevemente la profonda conversione di alessandro serenelli che accecato dalla passione uccise santa maria goretti con 14 coltellate poco prima di morire il sacerdote andò da maria e le disse marietta vuoi perdonare il tuo uccisore come gesù perdonò i suoi uccisori sulla croce e maria rispose sì lo perdono e lo voglio con me in paradiso alessandro fu arrestato e nei primi anni di prigione cercava di negare di dire altre versioni combattendo con il rimorso di coscienza fin quando un sogno particolare di maria che gli consegnava dei gigli che tra le sue braccia diventavano fiaccole accese comprese che era giunto il momento di confessare di dire tutta la verità e di accogliere il perdono di dio e di marietta alessandro si confessò e visse una profonda conversione uscito per buona condotta dopo 27 anni di carcere dopo un breve tempo si ritirò e fu accolto dai frati dove visse una vita profondamente religiosa pur non diventando mai frate a tutti gli effetti ad un certo punto volle incontrare la mamma di marietta l'incontro fu organizzato dal parroco quando la incontrò disse assunta mi riconoscete certo figlio mio e mi potete perdonare ti ha perdonato dio ti ha perdonato marietta vuoi che non ti perdoni io e insieme parteciparono a messa e ricevettero l'eucaristia eccomi cari la grandezza del perdono del perdono di dio che realmente guarisce e rende capaci a nostra volta di amare e perdonare la misericordia in fondo è anche la chiave per leggere la seconda manifestazione del signore risorto avvenuta otto giorni dopo nella prima manifestazione il grande assente è tommaso i discepoli poco dopo gli annunciano di aver visto il signore risorto ma lui si ostina non vuole credere alla parola dei discepoli non vuole credere all'annuncio della chiesa non sappiamo il perché il fatto che non fosse presente ci fa pensare era deluso da tutti e forse anche da se stesso non si rassegnava a starsene lì rintanato dopo aver già fallito una volta cercava e pensava di poter trovare gesù da solo puntava i piedi pensando perché a voi si è mostrato e a meno a voi che l'avete abbandonato come ho fatto io miei cari non lo sappiamo di certo era sincero soffriva tanto tommaso poteva andarsene continuare a fare il battitore libero è invece intelligente la domenica successiva eccolo lì con la comunità riunita l'allusione all'eucaristia domenicale chiara tommaso è un esempio bello non fa dei dubbi una scusa per non camminare ma li trasforma in risorsa per cercare e si mette nella condizione di lasciarsi incontrare dal risorto cioè la domenica con la comunità e proprio lì gesù risorto si rende nuovamente presente e li va incontro con misericordia con tenerezza gli ripete le parole che tommaso aveva detto e lo invita a mettere il dito nelle sue piaghe gloriose e a non essere più incredulo ma credente gesù è come se dicesse a lui e a te so il dolore che porti dentro anche io ho sofferto guarda ho sofferto per amore ho sofferto per te e sono qui a rinnovare la mia fedeltà verso di te puoi dubitare ti puoi allontanare mi puoi anche rinnegare ma io non smetterò mai di ascoltarti di amarti di intercedere per te presso il padre e di offrirti sempre e di nuovo la mia misericordia che salva e che realmente guarisce gesù fa sentire amato tommaso in fondo lo protegge anche da se stesso dai suoi turbamenti interiori e gli permette di fare un'esperienza così forte che tommaso caduto a terra fa la professione di fede più alta e limpida di tutto il nuovo testamento mio signore e mio dio cari fratelli e sorelle concludiamo lasciando risuonare le bellissime parole che gesù rivolse a santa faustina covalsca sentiamo le rivolte a ciascuno di noi proprio qui e ora la mia misericordia è più grande delle tue miserie e di quelle del mondo intero chi ha misurato la mia bontà per te sono disceso dal cielo in terra per te mi sono lasciato mettere in croce per te ho permesso che venisse aperto con la lancia il mio sacratissimo cuore e ho aperto per te una sorgente di misericordia non voglio punire l'umanità sofferente ma desidero guarirla e stringerla al mio cuore misericordioso che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti